Sono aperte fino alle 7 dicembre dell'anno in corso le iscrizioni al Master Universitario di secondo livello in Colon Protologia per laureati in Medicina e Chirurgia e laureati in Scienze Infermieristiche. Un Master di recente istituzione legalmente riconosciuto, il cui unico centro in Italia al momento è quello presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche della Università di Roma La Sapienza. Una risposta concreta ad una esigenza sanitaria per la larga diffusione di patologie che interessano il colon retto e che oggi grazie alle nuove metodologie e tecnologie avanzate tanto in campo diagnostico che terapeutico con strumentazioni di nuova generazione possono beneficiare di un trattamento più efficace e di una guarigione più rapida. Il Master è diretto dal Professore Angelo Filippini, direttore anche della Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell'Apparato Digerente. Per facilitare l'accesso ai giovani interessati all'apprendimento di questa branca specialistica sono previste anche borse di studio su cui possono avere informazioni contattando la segreteria per l'iscrizione al numero in sovraimpressione.